Maria Grazia Barbiero, c'è la possibilità di dare un grosso aiuto per il problema dell'epilazione? Sì, infatti ho acquistato da poco Apple Dream, che è una nuova tecnologia rivoluzionaria per quanto riguarda il problema pelo. L'epilazione è un laser a diodo, è un macchinario tutto italiano, dalla sua progettazione all'informatica, alla realizzazione e all'assemblaggio delle sue parti, tutto made in Italy, tranne il diodo che è in tedesco perché è in assoluto il migliore. È un macchinario che si può fare per tutti i tipi di fototipi di persone, quindi parliamo dalla persona che ha il pelo chiaro chiaro, a quello che è più scuro e quindi ha una persona più abbronzata, quindi anche in estate può essere fatto questo tipo di trattamento ovviamente stando attendo all'esposizione con appropriate protezioni. Senti, c'è in questo periodo anche questa promozione che fai tu perché in sostanza proponi un check-up gratuito? Sì, io invito a tutti quanti, quindi donne, uomini, ragazze e adulti a visitare questo centro, a venire qui per un check-up gratuito e darò tutte le informazioni. Fai anche naturalmente tutto il resto che si fa normalmente in un centro estetico? Certo, estetica generale, trattamenti viso-corpo con la linea Guinot, tutti professionali, ricostruzione delle unghie, smalto semipermanente, mascara semipermanente e questa è la novità proprio di questo centro.